Ho una notizia bomba da rivelare, una cosa nuova che mi è successa ieri. Buongiorno, mi presento, mi chiamo Giulia Montelli, ho 66 anni, ho una notizia straordinaria da annunciare, da condividere con tutti. Dunque io sono quattro mesi che mi sto alimentando con un sistema nutrizionale innovativo, numero uno a livello mondiale sulla salute, che aiuta sulla salute. Sono quattro mesi che la sto usando, sto usando questo sistema alimentare, ho già avuto, ero già contenta così, ho già avuto dei risultati, avevo il colisperolo alto, in un mese mi si è abbassato di 62 punti, soffrivo di insonnia, adesso dormo anche, di più non basta, la pelle epitonica è più lucida, già ero molto molto contenta così, energia aiosa proprio non sei mai stanca, prima mi alzavo la mattina e mi trascinavo dentro le gambe, adesso invece proprio molta energia. Ma la notizia più importante è venuta ieri, questa qui è stata una cosa che voglio assolutamente condividere con tutti. Io sono andata ieri a fare il controllo dallo specialista dell'osteoporosi, che avevo già fatto l'anno scorso, il primo controllo, siccome che stavo cominciando ad avere un po' di problemini, ieri sono andata a fare il controllo, dopo aver fatto le varie esame, le varie cose che ti fanno, la specialista mi guarda e mi fa, mi dice ma cos'è successo? E io cosa? Ma cos'è successo? Io mi sono spaventata, ho detto Dio, va a finire come si stanno supertornando le ossa, aiuto! Mi fa, mi dice guarda, la tua densità ossa, la mineralizzazione della densità ossa è aumentata del 2%, cosa che non succede mai, non succede, chi soffre di osteoporosi lo sa bene, che non c'è nulla che ti fa recuperare la mineralizzazione dell'osso, cioè non c'è niente, allora che io ho detto guarda io dico l'unica cosa, dico che faccio è quella di aver cambiato alimentazione e sto mangiando in questa determinata, mi sto alimentando in questa determinata maniera, che poi gli ho spiegato, lei in curiosità vuole vedere tutte le schede tecniche, perché ha detto che è una cosa assolutamente da studiare, da divulgare, perché finora non c'è stato niente che potesse far sì che chi soffre di osteoporosi potesse migliorare. Allorché io, cioè, vi confesso che quando mi ha detto così, mi avevo avuto un groppo alla golla e mi ha detto quasi da piangere, perché non me l'aspettavo, va bene le altre cose, l'energia, la pelle lucida, la tonicità, tutto quello che vuoi, però discorso colesterolo abbassato, delle mie michele a pressione alta, insomma ti livella di ogni, ma non pensavo mai al mondo che potesse lavorare anche sul discorso dello stuporosi, per cui io dovrò dire grazie per tutta la vita alla persona che mi ha presentato questa piattaforma e non sarà mai abbastanza il mio grazie. Vi saluto. Se volete sapere qualche cosa di più, mi contattate sul mio Facebook, poi vi spiegherò alcune cose che adesso così non vi va di dirle. Vi saluto. Delle cose un po' intime. Sì, fra credimi che le donne lo capiscono, famiglie. Amo, messaggio e diamo.